Musica Grande voglia di novità in casa Yamaha che si presenta a Leikman con il desiderio di stupire Prima di tutto presentando uno scooter a tre ruote il Tri-City, un concept per ora di 125 di cilindrata che promette di costare meno di 4.000 euro Qui alle mie spalle c'è il Tri-City Concept che debutta ad Eikman anche prima mondiale Per Yamaha, per noi, è un prodotto fondamentale perché ha come obiettivo primario quello di portare nel nostro mondo, cioè quello delle due ruote o delle tre chi ancora oggi non è convinto e non ha fatto il passo Ci sono ancora milioni di persone prigionieri del traffico nelle loro auto, nelle metropoli europee Ci sono persone che magari vorrebbero più libertà ma devono usare i medi pubblici perché hanno alternative Tri-City propone il concetto di leggerezza, agilità e prezzo che oggi nel mercato non c'erano Parliamo di un veicolo che peserà 150 kg quindi 80-90 kg in meno di prodotti analoghi a tre ruote oggi sul mercato 125 quindi che si guida anche con la patente auto e soprattutto posizionato un prezzo di ristino sotto i 4.000 euro quindi davvero pronto ad ospitare una massa molto grande di potenziali clienti che vorranno fare questo passo insieme a noi questo è un concept ma in estate arriverà il modello di produzione quindi siamo molto vicini al momento in cui Tri-City diventerà realtà e diventerà disponibile sulle strade europee Novità anche nel mondo scooter con il bestseller T-Max e l'X-Max Scooter sportivi, un segmento che è nato sostanzialmente col T-Max e che ha in X-Max un grande protagonista presentiamo a Milano le versioni 250 e 125 completamente rinnovate quindi un design completamente nuovo mutuato da versione 400 la proverbiale sportività nella guida quindi un telaio molto sincero molto adatto a spingere anche un po' di più del normale due caschi sotto la sella non si perde la funzionalità e sul 250 anche un riposizionamento di prezzo su un modello completamente nuovo al ribasso, quindi 300 euro in meno del prodotto che va a sostituire completamente grazie 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 E infine il mondo cruiser, ottima base per creare personalissime interpretazioni Sport Heritage, moto che si ispirano al passato ma guardano al futuro con contenuti tecnologici spesso importanti, qui a Milano però c'è un importante ritorno 35 anni di produzione ininterrotta in Giappone, torna anche in Europa SR400 la moto che ha ispirato tantissimi customizzatori nel mondo oggi è di nuovo disponibile a 5.990 Euro con l'iniezione elettronica quindi assolutamente conforme alle normative Euro 3 e ancora si presta come base ideale per la customizzazione ci sono qui alcuni esempi, la cosa importante è che tutte queste customizzazioni che riuniamo sotto il marchio Yardbuild daranno vita a kit che i customizzatori stessi metteranno a disposizione i clienti per poter replicare le moto da sogno che si trovano qui esposte ad EGMA vale questo discorso anche per XJR appena proposta da Deus nella versione Project X che ad EGMA ha anche la versione ispirata all'Endurance anni 70 grazie a tutti grazie a tutti